I reparti di gastroenterologia di Belluno e Feltre sono stati dotati di uno strumento all'avanguardia per l'identificazione e la caratterizzazione delle lesioni del colon. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. Abbiamo acquisito due sistemi di intelligenza artificiale per le nostre gastroenterologie dei nostri ospedali. Questi sistemi sono dei sistemi nuovi che stanno uscendo adesso nell'applicazione clinica. L'intelligenza artificiale aiuta il clinico per non farsi sfuggire quelle piccole lesioni che magari l'occhio nudo, l'occhio del professionista può non vedere. Quindi aumentiamo moltissimo l'accuratezza diagnostica delle colonoscopie che facciamo nei nostri ospedali. La tecnologia dunque sostiene lo specialista dal punto di vista clinico e diagnostico, creando un sistema all'avanguardia a servizio dei pazienti che scelgono le strutture del territorio. Questo sistema ci permette quindi non solo di dare una qualità maggiore alle attività che facciamo per i cittadini che si rivolgono alle nostre strutture. Diamo uno strumento in più ai clinici che oltre alla competenza clinica hanno questo strumento aggiuntivo per migliorare la parte diagnostica. Ed infine sono sicuramente anche un elemento di attrazione per tutti quegli specialisti che vogliono arrivare a lavorare in un ospedale che oggi è al top.